A Milano, distante solo 200 metri da piazza San Babila, Elite Immobiliare propone una pregiata di mora da 320 metri quadrati, con doppi ingressi e box. Un ampio salone triplo, ed una sala da pranzo con pavimenti in marmo e parquet, danno personalità all'immobile. L'appartamento, unico al piano, e con doppia esposizione, è completamente da ristrutturare. L'appartamento, unico al piano, e con doppia esposizione, è completamente da ristrutturare. La soluzione privede 3 camere da letto, oltre a 3 bagni. L'appartamento, unico al piano, e con doppia esposizione, è completamente da ristrutturare. Una ampia cucina, comoda e spaziosa, caratterizza la zona dei servizi. Completa questa dimora di pregio una loggia attrezzata e riscaldata, per vivere piacevoli momenti ricreativi e di relax. L'appartamento, unico al piano, e con doppia esposizione, è completamente da ristrutturare. La balconata del salone principale, affaccia su un lussureggiante spazio verde. Lo stabile è signorile con verde comune, ottimamente curato dai giardinieri e dal custode. Grazie per aver scelto Elite Immobiliare.